Ciao amiche e amici, è diverso tempo che non vi propongo un vlog e siccome mi è stato chiesto da una piccola follower ho deciso di vloggare durante una gita in Abruzzo. Questa settimana è terminata l'estate e questo video sarà l'ultimo delle gite estive, anche se comunque è un itinerario che potrete fare tutto l'anno. Comincio a raccontarvi questi due giorni in Abruzzo e nel titolo ho già spoilerato per cui inizio col prepararmi, lavarmi la faccia, i denti, sistemare i capelli, il trucco e vestirmi. Indosso direttamente il costume perché la prima attività della giornata sarà la canoa e poi magari scappa un bagnetto per cui preferisco così. Mi porterò con me giusto il minimo indispensabile sia per truccarmi che come vestiario e per praticità le salviette struccanti che però tendenzialmente a casa non uso. Controllo di aver preso tutto e siamo pronti per andare a fare colazione. Cappuccino e bombe! Adoro la crema pasticcera, come resistere! Si parte io e il mio maritino, un'oretta circa di viaggio. Abbiamo prenotato sul sito Maiellando insieme a una coppia di amici, l'attività in canoa sul Tirino. È la prima volta e sono entusiasta. Un po' preoccupata per la mia clavicola ma pare sia un'attività tranquilla per cui proviamo. Siamo arrivati al punto di ritrovo, bussi sul Tirino in provincia di Pescara. Lasciamo l'auto e compiliamo dei moduli con i nostri dati personali. Paghiamo l'attività. Tra parentesi, siccome non ricordavo il preciso importo, ho appena controllato sul sito ed è di 15 euro a testa per un'ora circa di attività. Siamo arrivati un pochino in anticipo rispetto all'orario prenotato e così approfitto per ammirare il panorama, gustarmi e relax e per fare foto e video per voi. Sono felicissima di essere qui e aver scelto questa attività. Immersi nella natura ci divertiremo a pagaiare lungo il fiume Tirino che con le sue acque calme ci cullerà e ci guiderà alla scoperta di panorami mozzafiato che caratterizzano tutta la valle del Tirino. Arrivato il nostro turno ci consegnano il giubbino, ci scattano una foto ricordo e ci riuniamo per la spiegazione dell'attività. La guida ci mostra i remi, le canoe, ci spiega come virare, come muoverci e ci fa salire cautamente per coppie. È un'attività adatta anche a famiglie con bambini. A seconda dell'età dei bambini, se sono molto piccoli, in canoa si può stare anche in tre. Tocca a noi, partiamo a pagaiare. Bellissimo! Un'atmosfera magica, immersi nel verde con il leggero rumore dell'acqua e della natura intorno. Le guide durante il percorso raccontano diverse cose interessanti, dalla fauna e flora che ci circonda al ritrovamento della leggendaria e possente statua del guerriero di Capestrano, che poi vi mostrerò. Fantastico ragazzi, è stato meraviglioso! Un'oretta a pagaiare, quindi abbiamo cominciato alle 12 e mezza, adesso sono le due meno un quarto e direi che è il momento di andare a mangiare. Ci rechiamo in un posto vicino, il centro turistico Il Bosso, un eco-ristoro. Molto carino, pulito e con un bellissimo panorama. Vediamo i piatti del giorno e il menù al tavolo. Cominciamo con un piccolo aperitivo e poi per me insalata di farro con verdure e caciocavallo. Tutto buonissimo! Adesso riprendiamo l'auto e facciamo un salto al B&B che abbiamo prenotato, giusto per lasciare le valigie, fare un saltino in bagno e prendere le chiavi della nostra stanza. Il B&B si chiama Country House, nonno Lorenzo. Si trova a Capestrano. Che ne dite, non vi sembra una cartolina? Immersi nel verde, nel relax. Davvero fantastico! Entriamo a vedere la nostra stanza. Pronti? Uno, due, tre. Wow! Accuratamente arredata in stile country romantico. Bellissima! Una stanza ampia con tutto il necessario. È pulitissima! E anche il bagno non è da meno. Bellissimo! E ora vi mostro la vista. Che spettacolo! 5 minuti e usciamo di nuovo. Andiamo a piedi sempre sul fiume Tirino, ma questa volta per sdraiarci e goderci panorama, relax e chiacchiere con gli amici. Anche qui ci sono canoe che passano. Mi pare di aver capito che il percorso del fiume è stato suddiviso in tre step da tre società diverse. Comunque mi stavo dimenticando di dirvi la curiosa temperatura dell'acqua. Tutto l'anno è sugli 8-10 gradi, per cui adesso con il caldo esterno l'acqua risulta ghiacciata e immergersi è veramente tosto. D'inverno non è sicuramente da meno il coraggio di immersione, ma dicono che è suggestivo vedere il vapore sull'acqua dato che è sicuramente più calda l'acqua rispetto alla temperatura fuori. Fatto questo mezzo bagnetto rigenerante, torniamo in camera. E ci prepariamo per andare a cena in centro a Capestrano. Vi mostro il bellissimo castello, purtroppo chiuso di sera, ma ci torneremo al mattino perché dentro c'è una riproduzione del famoso guerriero di Capestrano. Andiamo a cena, al ristorante del sindaco di Capestrano, o almeno così ho capito. Risto, macelleria, tirino. E quindi dopo un buon antipasto non posso che non mangiare un'ottima carne. E' giunto il momento della nanna. La giornata è stata lunga e domani abbiamo la seconda gita, per cui meglio riposare. Buongiorno! Dopo una bella doccia rigenerante e uno sguardo al panorama, scendiamo a fare colazione. Non faccio il video perché sono un po' rintronata e poi siamo in compagnia di una coppia di amici e preferisco godermi cibo e compagnia. Si riparte. Questa volta la meta è capo d'acqua. Facciamo prima una passeggiata nei dintorni della sorgente e poi prenotiamo il giro su una barca con un fondale in vetro che permette di vedere i mulini sommersi. Anche in questo caso trovo molto interessante fare il giro in barca con le guide che ti raccontano la storia e gli usi e i costumi locali. Questa imbarcazione è tipo quelle consentite sulla barriera corallina perché il lago è in zona protetta e quindi non sono consentite altri tipi di imbarcazioni, non sono consentiti droni e non è consentito fumare. Come potete vedere da questi cartelli ci sono tantissime escursioni e gite possibili. Per noi è la prima volta in zona e non c'eravamo molto informati, per cui per oggi va bene così. Siamo pronti a salire in barca. Guardate che acqua limpida! Praticamente nel 1965 fu costruita una diga a valle della sorgente per raccogliere le acque e consentire l'irrigazione dei campi di grano sottostanti. La realizzazione della diga sfuggì di mano perché essendo composta direttamente dall'acqua sorgiva inabissò le costruzioni presenti nel piccolo lembo di terra, tra cui un antico mulino. Durante l'escursione in barca siamo riusciti a vedere i fondali e il mulino. Veramente interessante! Scusate il riassunto brutale, ma se farete l'escursione la guida vi racconterà tutto per bene. Io vi do giusto lo spunto per andarci. Terminato il giro in barca, torniamo a Capestrano e andiamo al castello. Ecco il guerriero di Capestrano. Questa è una copia perché l'originale è a Chieti. L'anatomia del guerriero non è definita, è più approssimativa, mentre molta più cura è stata dispensata nel raffigurare dettagli come le armi, per sottolineare il rango e l'importanza del personaggio. Il guerriero rappresenta quindi una figura maschile stante, con braccia ripiegate sul petto, in costume militare. L'altezza senza la base raggiunge i due metri circa. La decorazione doveva essere in origine completata dal colore dipinto. Restano in alcuni punti tracce di colore rosso. Attualmente invece è di color grezzo, beggiolino. Ci fermiamo per un pranzetto veloce, buonissimo, e poi si riparte per tornare a Silvi. Programma della serata, cenetta a casa con i suoceri e Gin Martini a Pescara con gli amici. Spero questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. A me personalmente la gita è piaciuta molto e ovviamente non per forza dovete dormire fuori. Potete tranquillamente fare la canoa un giorno e capo d'acqua un altro giorno. Noi torneremo sicuramente ancora in zona per scoprire nuovi posti e fare altre attività. Vi aggiornerò! Seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale. Ciao!